Non per affrontare i faggarbitos, è sempre come qui il sindaco, è iniziare a battere le mani assieme. Non bisogna neanche di direvi di alzarmi i piedi, perché so che i due metri sono molto fatti. Non bisogna neanche di muovere il culo, so che mi scurgo le guardiamo spasso. Non basta battere le mani per fermare i faggarbitos, bisogna anche precisare il legno di cui ne avete voglia. E se siete qua per cercare i faggarbitos, provate in mezzo a metà voglia di pane. Quindi se qualcuno vorrei ripetere dopo di me, we want the fun! E' un secondo grado! Uno, due, tre! We want the fun! 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 Bene, 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 bene! Ora che è stata l'assomorazione di tutti i miei, direi che possiamo anche passare alla fase successiva del rapporto instaurato col pubblico. Per usare a ogni persona la dose necessaria di farlo. Per usare a ogni persona la dose necessaria di farlo. Per usare a ogni persona la dose necessaria di farlo. Forse è la fase successiva del rapporto, per usare a tutti i miei, per usare a tutti i miei. Per usare un po' che stai messo. Per usare a tutti i miei! Per usare a tutti i miei! Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Noi, 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 noi Noi, 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 noi Sì, sì, sì. Grazie a tutti Noi non... Noi non... ... E Grazie per la visione! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!